Ben Natale cari amici, grazie poi per il grande seguito che ci state dando perché è davvero commovente il modo con il quale vi state fidelizzando al canale e soprattutto alla mia passione per la difesa della Juventus, negli ultimi giorni come avete visto abbiamo indugiato molto sulla venuta di Chinei qui a Castellabate perché in due momenti diversi anche nello stesso contesto in un modo e nell'altro abbiamo cercato di capire, capire per che non era facile, vi assicuro che Chinei è più ermetico degli ermetici, fra l'altro in queste ore girano i suoi video per le strade di Castellabate, i panorami, i complimenti che fa a tutta l'area, questo ci fa piacere naturalmente. Più tardi risponderemo a Chinei sulla risposta d'ufficio che lui ha dato a Monsignor Vincenzo Calvosa Vescovo di Valore della Lucania perché era un atto dovuto rispondere al Vescovo però si è limitato molto, devo dire che attraverso i social, attraverso i siti, attraverso tanti contesti i tifosi della Juventus lo hanno risposto davvero a tono, però la domanda di Don Calvosa ha aperto dunque un varco enorme come le mie domande mirate, decise che hanno voluto praticamente capire, capire il personaggio. e vi ripeto non era facile, non era facile perché gli organizzatori del convegno volutamente ci avevano avvertiti un mese e mezzo fa che sarebbe venuto, però poi nell'ultima settimana hanno fatto in modo che ci dimenticassimo e francamente io mi ero dimenticato che c'era Chine a Castellabate, a Villa Matarazzo, Villa Bellissima. Ne parliamo più tardi, siamo qui per parlare di altro, siamo qui per continuare il discorso anche relativo alla guida della Juventus che è molto pericolosa, come ben sapete, è pericolosa perché mette seriamente in discussione e ci riporta ai cinque anni precedenti all'Allegri primo, quando raccolse l'eredità di Conte e mise in discussione, lui mise in discussione i scudetti sicuri, quando io vi dico che lui ha fatto praticamente, la Juventus ha fatto vincere i campionati a questo allenatore, è la Juventus che ha fatto vincere lui, non lui che ha fatto vincere la Juventus, c'è però una fetta di pubblico che è rimasta affezionata, dice no, questo è un allenatore che ci ha fatto vincere e merita rispetto e io questa cosa l'accetto, l'accetto perché devo dire che rappresenta un modo di ringraziare una persona, quindi è un valore, credo sia anche addirittura un valore aggiunto, una suggestione intellettuale per i tifosi della Juventus che la pensano così, quindi immaginate, se condanno meno chi tifa per Allegri, il problema è un altro, il problema è che sono loro che non rispettano la nostra opinione, non la rispettano, perché loro a giustificare questo personaggio mettono le vittorie del passato, ma non contemplano le disfatte del presente e quindi si va allo sconto, è evidente, è divisivo, è divisivo sotto ogni punto di vista, ma mi va bene divisivo perché ci si divide su un argomento e magari poi si vince come capitava nella prima fase Allegri, oggi invece si perde, Allegri oggi è sinonimo di sconfitte, di disastri e non si vuole ammettere questo, cioè si tende a giustificarlo continuamente, ma ci vuole tanto per dire ci ha fatto vincere nel passato, ma poi è un disastro, no, si va a giustificare e lui su questa cosa, con la corazza che si è creata attraverso i giornalisti, ci gioca e ci prende per culo, si fotte 9 milioni di Euro e danneggia la Juventus. Anche a Frosinone ha rischiato di far scappare l'Inter, cioè in una partita in cui la Juventus doveva fare il minimo indispensabile per vincere, stava addirittura perdendo, perché se gli attaccanti del Frosinone avessero fatto gol in due o tre circostanze sull'1-1, il Frosinone avrebbe vinto. Certo anche la Juventus ha avuto le sue occasioni, ma ci sono delle coincidenze ben particolari, lui ha sbagliato la formazione totalmente, ha tenuto fuori un attaccante da 90 milioni, lo ha messo fuori, si è preso la responsabilità di metterlo fuori e allora tu non sei l'allenatore della Juventus, tu sei il padrone della Juventus e non mi sta bene, tu non puoi tenere un attaccante di 90 milioni in banchina, che io posso pensare alla mala fede, io posso pensare che ti sei giocato le bollette, io posso pensare che tu hai giocato la vittoria del Frosinone, perché tu non puoi tenere il miglior attaccante possibile che hai il rosa in panchina, non ci sto, io penso alla mala fede, perché Vlaovic va in panchina? Chi è più forte? Miric di Vlaovic? Ci rendiamo conto, ci rendiamo conto del danno che ha fatto e questo trova conforto nel fatto che appena è entrato il calciatore Vlaovic, la Juventus ha avuto tre palle gol nitide e uno lo ha fatto, un altro gliel'hanno annullato e voglio vedere fino a che punto è fuori gioco. Quindi se tu hai in panchina Vlaovic, io non penso che tu vuoi bene della Juventus, non credo che tenere Vlaovic in panchina significa voler far vincere la Juventus, perché acciaccato non è. Io non credo che tu hai tenuto chiesa fuori perché ha il problema al tendine rotuleo, non ci credo, il problema è un altro, il problema che i due quando hanno segnato il calcio di rigore contro la settimana precedente Vlaovic lo lascia a Chiesa, Chiesa lo segna e Vlaovic fa il siparietto su Instagram, a uno lo ha lasciato a Torino e un altro non l'ha fatto giocare. Questa è la realtà, cari amici, purtroppo, purtroppo questa è la realtà e lui penalizza la Juventus. Beh, voglio capire che c'è un gioco bello, consolidato, che chiunque metti ti fanno venti palle golle, allora io comprendo anche le esclusioni dei due attaccanti più importanti. Invece tu uno lo lasci a Torino, vorrei vedere il certificato medico, ma non ve lo mostreranno mai perché non esiste il certificato medico perché Chiesa non si è infortunato, e l'altro lo metti in panchina e ti presenti con Milic, che è lo scandalo, che è tecnicamente il più scarso di tutti gli attaccanti di Serie A, è il ragazzino al quale dai finalmente spazio. Quindi già questo è il primo totale, madornale errore che lui ha fatto durante il corso di questa partita, ed è un errore strategico, guardate, ed è un errore che penalizza la squadra, non gli dà certezze alla squadra, perché questa è una squadra impaurita, questa è una rosa impaurita dall'allenatore. Poi veniamo alla difesa, da quando è entrato Danilo e Alessandro la difesa non ha pace, non ha pace assolutamente, è a Frosinone che fa, presenta il centrale con due esterni e li mette centrali, cioè Danilo e Alessandro li mette fuori ruolo, erano entrambi fuori ruolo, perché Danilo e Alessandro sono due esterni di fascia, non centrano con la difesa centrale. Tanto è vero che prima si è infortunato Alessandro, speriamo che questo infortunio dura il più a lungo possibile, tanto è vero che come è stato infortunato Alessandro, la Juventus ha fatto una serie di risultati positivi senza gli errori di Alessandro. E Danilo, messo braccetto sinistro, ha fatto prendere il gol. Costicci non ci ha capito niente, poi dovete entrare Gatti, che è passato a destra e Danilo a sinistra. Mentre si sa benissimo che quando giocano i tre centrali di ruolo, Bremer, Gatti e Rugani, la Juventus ha delle certezze anche in difesa, ha fatto sei crescite di fila. Sono numeri, sono condizioni, invece lui che ha fatto a Frosinone? Ha messo il centrale, un centrale, due esterni centrali, sbagliando clamorosamente. Non basta questo, non bastano queste allegriate vergognose, perché noi poi dobbiamo spiegare anche perché contestiamo Allegri. A metà primo tempo Cambiasso aveva avuto un avvio difficile, messo quinto a destra. Che cosa fa? Mette Cambiasso interno di centrocampo, un ruolo che non ha mai svolto in vita sua, perché lui è un esterno sinistro basso adattato ad esterno sinistro alto, è qui super adattato a quinto a destra alto. Lo mette interno di centrocampo a destra, fuori ruolo totale e mette McKennie sulla destra. Si consegna mani e piedi al Frosinone, il quale Frosinone, vista questa sciagurata mossa di Allegri, comincia a dominare il campo in lungo e largo. I palleggiatori li hanno palleggiato in faccia alla Juventus per tutta la gara, hanno pareggiato con un errore, arrivato da Danilo, dalla zona di Danilo come sempre. E poi quant'è che la Juventus si è un po' ridisistemata? Quando, passati due pericoli, cosa è successo? E' successo che lui, dopo aver messo Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli e la squadra già lì è cambiata, perché Nicolussi Caviglia è un altro giocatore rispetto a Locatelli, molto più bravo, molto più dinamico, molto più preciso, Locatelli non è quello il suo ruolo, lo mette fuori ruolo, è un interno di centrocampo. Che cosa ha fatto? Ha tolto Cambiasso dal campo che ha fatto una partita penosa, ha rimesso McKennie nel suo ruolo e ha messo UEA a destra. Cosa è successo? Bene, è successo che McKennie dall'interno di centrocampo ha colpito la traversa, poteva segnare. E' successo che grazie allo scambio con UEA McKennie ha fatto la sovrapposizione, ha crossato e Vlaovic ha segnato. Ma sono cose elementari, messi al loro posto. Questa è una rosa bellissima, questa è una rosa fortissima di calciatori, ma li devi mettere al proprio ruolo. Non puoi fare una marmellata, perciò abbiamo perso lo scudetto due anni fa, perciò abbiamo perso lo scudetto l'anno scorso. Per fare queste cose, per metterli fuori ruolo non è possibile. Ma io, della cosa che mi lamento, è di chi non controlla. Ci vuole un controllo, giunto lì che fa. Cioè questo è proprio il padrone, può davvero determinare i risultati della Juventus come dice lui? Ci ha fatto perdere punti a Iosa così. Quando io vi dico, e ve lo dimostro, che la Juventus è sotto l'Inter, non solo per colpa degli aiuti arbitrali all'Inter, ma per questo l'Inter dovrebbe stare al quinto posto, non al primo posto. La Juve è sotto anche per gli errori, gli erroracci durante la partita di Allegri. E ne combina di tutti i colori, per non mettere i giocatori del proprio ruolo. La Juventus ha un potenziale enorme, guardate. Ma voi davvero pensate che Iling Junior non è un giocatore che può giocare titolare in tutte le squadre d'Europa? Non è un giocatore Nicolussi Gaviglia che può giocare titolare in tutte le squadre italiane? Non è un giocatore Ildiz che può giocare diciamo in mezza Europa? No, lui purtroppo ci ha abbottato la Wallera con Locatelli e Miretti, depotenziando praticamente la Juventus, facendola giocare con gente scarsa, i più scarsi che fanno parte della sua cricca. Allora non è che noi diciamo Allegri per antipatia, Allegri. Quando Allegri ha messo la formazione giusta in campo, io sono venuto qua e ho detto oggi ho indovinato la formazione, oggi ho indovinato la formazione, perché è quella possibile. È capitato due o tre volte che ho indovinato la formazione, io sono venuto qua e ho indovinato la formazione. Quindi la sua penosa continuità nell'errare, nel delinquere calcisticamente è troppo evidente. Questa cosa è elementare, non la vedo solo io, la vediamo tutti. Perché secondo voi sono tutti contro Allegri? È una minima parte di nostalgici, sono a favore di Allegri. Ma perché Allegri continua a sbagliare? Ma non è che si chiama realmente l'Allegrentus, cioè la squadra di Allegri, si chiama la Juventus. Lui non può sbagliare con il nome Juventus, con 14 milioni di tifosi e con altro, non può proprio sbagliare. Ecco perché è un personaggio non, come si dice, mi viene il termine, non è rassicurante. Perché le due scelte sono sempre discutibili, sono continuamente discutibili. Quando abbiamo detto che ha trovato il ruolo a Chiesa, io l'ho detto, per fortuna ha trovato quel ruolo a Chiesa. Quando ho detto per fortuna fa il 3-5-2, io gli ho dato anche questi meriti, che sono piccoli meriti rispetto al mare nostrum di dei meriti che ha. Però qualcosa l'ha alzeccata. ma continua a sbagliare. Cioè le mosse di Frosinone denotano, a parte il nervosismo, un isterismo clamoroso che lui ha. Ecco perché ci tenevo a dirvi che, francamente, ci sta distruggendo. Mi fermo qui, vi ringrazio, vi ringrazio molto per il seguito. Vi invito ad iscrivervi al canale, iscrivetevi, mettete un like se lo ritenete opportuno e fate un vostro commento se lo ritenete ancora più opportuno. Grazie a tutti quanti voi, ancora Buon Natale. Grazie. 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 Grazie a tutti.